Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a tutti! 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 città adesso si è iniziato quindi i'alli tolire se ne vedi due l'aimita ne vedi Mamiheri 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 Umbrella Dai, dai, dai. Anc. Arizaka. Leliyah. Vakio. Nasu. Ewa. Dio. 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 N sinks. Dio, Dio. Dio, Is it possible? пер Adaptare oh ya beh ade lire da me dare u de Common area u deathete-ote-2 . ilzo 3,2,3,3,3,3,3,3,4,3,3,4,0,3,4,8,3,4,7,8,7,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9. Sì Sì, 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 sì. Siamo in giro a è per ora i un po' un po' un po' un po' il giro il giro un po' un po' un po' Da lei è giusto per te stai Ancora Ci sono Fino Lan, c'è un giusto? Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Fino Lan che stai spettato Fino Lan, c'è un giusto Fino Lan, c'è un giusto A la mia Questa è un giusto La mia ragazza è che agolica è stata Noi? no ah ah a te ne ma tante si no tutti che a a a a Ficciare! Non fa non con, fati. Ah! Chissà! Chissà! Ah ok, stai. Flancio! Stai l'essere. Si si s'e no! Si si s'e no! Stai l'essere lo saguffo non ti il tante. ok Umeee! Heli attack!